E' proprio qui, vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare. Sono casa in un sassato, i fumi di laggiù, nel bosco l'enerà, vicino al fiume blu, un piano e laggiù, i fumi di quel che sai. Se non ho già visto, posso ghiacciare i bicchieri? Sì, sì, allora no. Cos'è questo? Cosa è questo? Questo è sul citron, con un po' di limone. Se vuole puoi provare, giù. I ricchi non sono tre, sono quattro, sono tre. Sono tre, però, anche se mi devi voler mettere la qualità, ho un problema, io voglio uscire un dentro al nostro ospite. Questo con la obesia. Io mi chiamo Amito Sanseverino, tutti quanti mi chiamano Pol Duccio, e per questo, un po' di musica, grazie. Le regalo questo beige, così si ricorda di me. Grazie. Impossibile di verificata. Un applauso a Vito! Allora, da solo, iniziamo i lavori di una nuova struttura, che si trova a Pisceglie, si chiama ? Si chiama Manteria San Felice, con le Le Chateau, con cinque camere. Il tempo è iniziato, è già iniziato da... Noi, noi, iniziato. Questa volta preferisco fare un coppio innovativo, oltre al sorbetto uso un prodotto nostro, diciamo perché io ho bisogno di Andrea Bicegna nella BAT, che è l'olio d'oliva. Extravergine, aromatizzato all'arancia. Un applauso! Un sorridici, merito del mango, aromatizzato con Smirloff, Citron. Con Smirloff, Citron. Poi, con l'obice, lo scusate. Perfettata! Era uno scherzo! Era uno scherzo! Oh, che fai? Se fai i giochi, per te neanche... Io ho fatto un gioco! Ah, era uno scherzo! Bravo! Ho visto che si era andato attento. Troppa focaccia che ha dato... 30 minuti per l'arrivo. 30, balancio, buona tarda! Sono abituato, mettere la pianeta. Ah, è nato. Per fare un po' di più, perché così mi hanno chiesto di offrire anche qualcosa, oltre che a lei, a realtà, che il giudice tecnico me l'ha chiesto. per la verità il giudizio tecnico sta dicendo di no vabbè sto mettendo un sorbetto al limoncello senza schiapito ma il drink è per la famiglia la famiglia qua è grande le bruschette è un po' di sale e pepe quanto basta ce l'abbiamo? è un po' di sale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.